This is Great Big Story Il 14 febbraio 1983 è San Valentino ed è anche il nome di una delle più grosse operazioni della polizia contro la rete mafiosa siciliana che ricicla il denaro sporco nell'Italia del nord Vengono arrestati 34 boss tra essi Vittorio Mangano droga, rapimenti, omicidi insomma ha uno dei casellari giudiziari più ricco fra tutte le famiglie di Palermo è la famiglia del quartiere di Portomuovo immaginate la sorpresa degli inquirenti quando scoprono che il mafioso è in contatto amichevole con Marcello Dell'Utri stretto collaboratore di Berlusconi e che ha persino lavorato direttamente al servizio della famiglia Berlusconi per più di un anno ha operato nella villa di Arcore la scoperta è imbarazzante ma il clan Berlusconi ha una giustificazione ben rodata Berlusconi aveva comprato con la mediazione di Previti una bella villa ad Arcore aveva bisogno di qualcuno che si occupasse dei cavalli, delle stalle e così via Marcello Dell'Utri che all'epoca era il suo segretario siciliano ha contattato un signore che conosceva gli ha detto datemi qualcuno che si occupi dei cavalli e delle scuderie è arrivato a Mangano ha lavorato un anno ma poi quando si è saputo che aveva fatto cose che non andavano bene è stato licenziato un magistrato di Palermo ha una visione sostanzialmente diversa da molti anni il giudice Antonio Ingroia conduce il processo intentato alla mafia e ai suoi complici la sua vita quotidiana assomiglia a un inferno scorta e macchina blindata 24 ore su 24 ed è lui che conduce l'inchiesta sui legami tra la mafia siciliana e il gruppo Berlusconi per il giudice il ruolo del mafioso Vittorio Mangano presso Silvio Berlusconi superava di gran lunga la mansione di responsabile delle scuderie aveva un ruolo che non era semplicemente quello di curare i cavalli era un ruolo di una sorta di factotum all'interno della fattoria persona di fiducia della famiglia andava dal mattino che accompagnava i figli del dottore Berlusconi a scuola poi si occupava delle varie faccende e attività interne alla tenuta anche quando il dottore Berlusconi riceveva persone o amici aveva degli invitati spesso Vittorio Mangano sedeva a tavola con loro con il padrone di casa vi erano dei rapporti di vera e propria amicizia e confidenza che sono stabiliti anche fra i figli del dottore Berlusconi con i figli di Vittorio Mangano quindi c'era una consuetudine di rapporti molto intensa quali erano in verità i rapporti esistenti tra Silvio Berlusconi e Vittorio Mangano? il mafioso è morto di cancro, in prigione, senza aver chiarito la questione si sa che il braccio destro di Berlusconi, Marcello Dell'Utri è imputato ad aver tenuto stretti rapporti d'affari con la mafia siciliana proprio attraverso il Mangano abbiamo scoperto che Berlusconi stesso sapeva su Mangano e sulle usanze della mafia molto più di quanto non abbia voluto dire un episodio avvenuto nell'autunno 1986 porta una nuova luce su queste relazioni comincia tutto in via Rovani a Milano questa villa è una delle residenze di Silvio Berlusconi e in quella data diviene bersaglio di un attentato un giornalista andato sul posto si è fortuitamente imbattuto nella custodia Berlusconi, presidente, ministro e lei lo conosce? lavoro lavoro qua? sì ma qui è la villa dove c'è stata questa bomba un giorno? no, no nell'ottanta, tanti anni fa abbiamo messo dentro di carta però come? era di carta, non era bomba era una cosina superficiale, ecco non ha fatto danni ah però una, tipo una una minaccia? sì, una cosa leggera, una minaccia ah sì? vado perché ho prenduto fin qui purtroppo niente di strano è il seguito che è interessante il giorno dopo l'esplosione Berlusconi chiama al telefono il suo amico siciliano Dell'Utri vuole parlargli dell'attentato ma altre orecchie seguono la conversazione quelle dei poliziotti il telefono di Marcello Dell'Utri è sotto controllo nel quadro delle inchieste antimafia ci siamo procurati questo documento pronto, pronto, eccomi allora Vittorio Mangano eh che succede? si ha messo la bomba non mi dire si e come si sa? si, da una serie di riduzioni per il rispetto che si vive l'intelligenza è fuori? si, è fuori ma non lo sapete come è questa cosa qui da come l'ho vista è fatta con chi è di polvere nera una cosa grossissima ah è fatta con molto rispetto a quali che l'ha fatto ah è stata fatta soltanto sull'attività esterna ah ecco, secondo me è come la vittima un altro magari è buona letta o sarebbe una telefonata dire sulla bomba allora la mangola eh si, si, si un tiro di polvere nera c'è proprio minimo si, si c'è proprio come lì mi faccio sì senti solo quinto se vengono uno uno madre e madre la raccomandata caro dottore e qui non ha messo una bomba che non sa scrivere si 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 una vita ma buona mi faccia e gli ho detto anche i carabinieri eh mi ha telefonato io 30 milioni lì catalizio a dire come 30 milioni 30 milioni e poi noi lo restiamo dicono no zu per 30 milioni poi hanno circondato la villa no ah no dai sì ma questi non è quella di che siamo scesi io per andare della macchina paurosegno e ci spara sto da noi ok e un barro ci ha Chicago più quelli che loro acjęiamo va bene sentiremo va bene speriamoci richi ok ciao 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 cosa c'è al di là di queste conversazioni al tribunale di Palermo dove Marcello Dell'Utri è indagato numerosi testimoni hanno confermato i rapporti d'affari che il gruppo Berlusconi avrebbe avuto con la mafia siciliana alcuni testimoni, a volte recusati hanno patteggiato la libertà con le loro rivelazioni ma sono spesso testimoni di prima mano fra questi pentiti Francesco Di Carlo secondo loro il gruppo Berlusconi all'inizio sarebbe stato molto ma molto aiutato dai soldi di Cosa Nostra sono testimoni credibili per il procuratore Ingroia ha indagato per molti anni sulle operazioni finanziarie del gruppo Berlusconi Ingroia afferma di aver identificato numerose operazioni anomali fa buona guardia ai suoi armadi nei quali ha riposto chili di documenti di perizie e anche le audizioni di Silvio Berlusconi il procuratore punta in particolare il dito sul ruolo giocato da una piccola banca milanese la Banca Rasini sospetta che essa sia stata una delle corsie privilegiate tra il gruppo Berlusconi e la mafia la Banca Rasini è quella che era una banca di riferimento di molti siciliani e una banca nella quale peraltro aveva lavorato anche il padre del presidente Berlusconi è una banca con la quale il gruppo Finvest alle sue origini ha avuto rapporti costanti quindi per lei ci sono prove? per questo motivo sostengo l'accusa nel processo dell'Utri per mancanza di prove formali Berlusconi non sarà perseguito in questo dossier ma il suo amico e collaboratore Marcello Dell'Utri rischia parecchi anni di prigione per collusione con la mafia agli occhi di numerosi italiani oggi questo è sufficiente a gettare il dubbio sull'ascesa fulgorante del giovane Silvio sia nel settore immobiliare che in quello televisivo This Great Big Story Grazie a tutti